Perché vedere l'infinita fabbrica del Duomo? Perché è un film che si interroga sulla natura delle cose, sulla materia, di cosa sono fatte gli oggetti, in questo caso il Duomo, e quindi in modo traslato, ma non troppo, di che cosa è fatto il cinema. È un film sulla struttura delle cose, sulla struttura delle immagini.